Bononia Racchetta entry-level maneggevole e solida Forma rotonda e bilanciamento medio per un ampio sweet spot centrale Peso standard tra i 355 e i 375 grammi Strutture in fibra di carbonio e piatto in fibra di vetro Nucleo Neva Soft per garantire massima flessibilità e un eccellente controllo di palla Spessore da 38 mm Cuore aperto E finiture opache